Lorenzo Benismaghi, una vita nei governi, nelle banche, membro del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea fra 2005 e 2011, oggi Presidente della Societe Generale a Paris. Benvenuto a questa faccia a faccia. Senta, lei ha visto l'economia e le finanze in tutta l'Europa per diversi anni. Come giudica questo momento per l'Aerozone e poi per l'Italia? Direi che è la fine di un ciclo di crescita economica che in media non è stato eccezionale, però c'è stata una ripresa dopo la seconda crisi europea, siamo alla fine, tutti gli indicatori danno un rallentamento, ci sono un paio di fattori di rischio in questo rallentamento che la Brexit, che non sappiamo come va a finire, la guerra commerciale, qualche tensione finanziaria e questo diciamo è l'Eurozona. Poi all'interno dell'Eurozona c'è l'Italia che ha sempre fatto meno e in questa fase sta entrando in una fase di rallentamento in condizioni più fragili degli altri paesi, perché gli altri paesi durante la fase di ripresa hanno ridotto il debito, hanno ridotto il deficit, hanno messo a posto le banche. Forse l'Italia non ha usato questi anni di crescita per mettere fieno in cascina, come si dice in Italia, e entriamo in una fase di rallentamento, forse di recessione, nudi. Perché dici forse? Siamo in recessione tecnica perché ci sono stati due trimestri consecutivi e sembra molto probabile che saranno tre. Sicuramente, probabilmente il primo trimestre sarà negativo, forse lo sarà anche il secondo, diciamo, poi fare le previsioni è sempre complicato, però sicuramente siamo in una fase di stagnazione e probabilmente anche di riduzione del reddito disponibile. I dati dell'Istat di questi giorni lo confermo. Come si commenta, è una domanda sincera, perché io non so la risposta, come si commenta una situazione in cui i massimi esperti dell'economia mondiale, dal Fondo Monetario alla Commissione Europea, all'Ocse, per citare solo alcuni, per non parlare della Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea, economisti, tutte le grandi banche privati. Tutto il mondo è arrivato alla conclusione che la stima giusta per la crescita quest'anno è vicino a zero, che sia zero più zero uno o zero due o zero tre o zero o meno zero due, non cambia veramente la sostanza. Invece il governo, attraverso il suo nominale, primo ministro, ha annunciato al mondo in questi giorni, no, non sarà così. Non ha detto che è un anno bellissimo questa volta, ma sembra che la risposta alle massime autorità mondiali, che devono analizzare i dati, è di attaccarli e dire, come ha detto un politico italiano, non so quale, devono andare a fare austerity a casa loro, fra l'altro casa loro è qui, perché l'Ocse comprende l'Italia. Come si commenta questo negazionismo dei dati? Forse non è niente di nuovo, noi forse ci aspettavamo quello che si chiama il governo del cambiamento, che l'atteggiamento sarebbe stato diverso, ma l'atteggiamento è lo stesso di, se ci ricordiamo Berlusconi quando diceva in recessione che i ristoranti erano pieni, o Renzi che diceva che la ripresa è straordinaria, Gentiloni che diceva che non siamo più il fanalino di coda, forse è un po' una malattia che prende chi sta al governo, nelle stanze dorate del potere si pensa che i propri desideri corrispondano alla realtà, anzi che la realtà sia uguale ai desideri. Per quello che gli americani chiamano wishful thinking. Wishful thinking. La speranza che... Arrivano i dati negativi e invece di capire che questi dati riflettano i dati oggettivi e cercare di far qualcosa per cambiarli, si cerca di negare. Poi l'altro fattore anche che spesso quando si è al potere ci si circonda di persone che ti dicano yes, 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 che tutto va bene e poi alla fine ci credi, invece di anticipare i dati, vedere che l'economia sta rallentando e prendere le misure che sono correttive. Ma come si commenta invece per andare alle cose molto concrete il fatto che tutte le autorità mondiali, compreso qui in Italia, gli esperti, ritengono che una parte della recessione o del rallentamento in Italia è dovuto ai fatti esterni come erano giustamente elencati, la guerra commerciale fra Cina e America, il rallentamento della Germania e altri fattori a livello internazionale, ma una parte è dovuta al fatto, stando a questa istituzione, al fatto che le due politiche signature, quelle che sono più importanti di questo governo, cioè il reddito di cittadinanza e il quattrocento, sembrano più recessivi che espansivi, alla fine non creano quell'effetto moltiplicatore che stimola la domanda interna. Ma effettivamente il rallentamento dell'Italia è in parte dovuto al contesto internazionale e in parte dovuto al contesto interno, ma la cosa che sorprende è che ci sia una sorpresa perché in fondo il ministro Tria aveva detto lui stesso durante l'estate a Cernobbio è inutile fare una battaglia per avere un deficit troppo alto perché poi vuol dire spread più alto che poi penalizza la crescita, però poi alla fine l'hanno fatto, hanno fatto un deficit più alto con delle misure che non sono misure di investimento, sono misure ridistributive e un prepensionamento. Ora fare un prepensionamento all'inizio di una recessione è un rischio enorme perché quale azienda oggi di fronte a dei pensionati si mette ad assumere dei nuovi giovani, probabilmente aspetteranno la fine della recessione, dunque quell'aspettativa di avere uno che esce e uno che entra probabilmente non si realizzerà, la disoccupazione aumenterà e poi lo spread vuol dire tassi più alti per indebitarsi, vuol dire anche una situazione un po' più critica per le banche che hanno titoli di Stato, dunque le banche non prestano più, insomma è un film déjà vu all over again come si direbbe di nuovo negli Stati Uniti, si sapeva, è stato detto da molti economisti e ora ci stiamo confrontando con la realtà, il problema è che di fronte a questa realtà uno la si nega e probabilmente le misure necessarie per invertire la direzione non si prendono, anzi si vuole continuare nella stessa direzione, cioè la flat tech, il reddito, il salario minimo, cioè tutte misure che alla fine rischiano di frenare ulteriormente la crescita e di mettere paura agli investitori. Viesce a spiegare in parole povere a chi ci ascolta perché queste misure non creano crescita in lavoro? Ma come dicevo prima i prepensionamenti legati alla quota 100 vuol dire che ci sono più persone che vanno in pensione, dunque bisogna pagare loro la pensione, ci vorrebbero molte più persone assunte, ma in una fase di rallentamento le aziende che hanno paura, che non investano, non assumeranno e dunque questo vuol dire più carico e dunque chi è preoccupato per le proprie finanze pubbliche alla fine risparmia invece di spendere. E il reddito di cittadinanza è una ridistribuzione ma che va a penalizzare soprattutto i giovani, cioè chi non è sul mercato del lavoro. Questo è il 2018-19, poi c'è il problema del 2020, cioè il futuro. E come uno guarda il futuro? Uno guarda il futuro dell'Italia con una finanziaria che si presenta come una bomba d'orologeria perché o si finanziano tutte queste misure con l'aumento dell'IVA, la famosa clausola di salvaguardia, vuol dire un aumento di un punto e mezzo percentuale, l'IVA che sale al 25%, che taglierà i consumi e dunque si va in una recessione ancora più forte, oppure non si finanzia con l'aumento dell'IVA, si fa un deficit più alto, deficit che magari risale al 4%, 4,5%, con un debito che già è salito nel 2019 e salirà ancora più nel 2020. E dunque gli investitori internazionali si prenderanno paura, dunque lo spread che sale e dunque di nuovo un altro avvitamento. Cioè quello che ci vorrebbe in realtà è un'inversione completa della politica economica, ma questo vuol dire un governo diverso, vuol dire ritornare indietro sui propri passi. questo governo non può politicamente fare questo tipo di inversione. Parliamo delle banche centrali, lei è stata per sei anni alla Banca Centrale Europea, prima dell'arrivo di Mario Draghi. Abbiamo fatto due mesi insieme. Due mesi insieme. Un commento sul mandato di Mario Draghi che adesso in ottobre finisce? È arrivato in un momento molto critico, alla fine del 2011 con la crisi in Italia e in Spagna. quello che non è spesso noto è che ha impostato un rapporto anche con la politica un po' alla pari, ha chiesto alla politica di poter fare di più come politica monetaria, però in un quadro di finanza pubblica più solido, dunque il Fiscal Compact, il famoso Fiscal Compact è stato un'idea di Draghi. In cambio di questo Fiscal Compact lui ha fatto il whatever it takes, cioè faremo tutto quello necessario e ha interrotto l'ondata speculativa. Forse direi la cosa ancora più notevole, di cui si parla poco, è che in realtà quando lui ha detto whatever it takes faremo tutto quello che è necessario, la politica non ha reagito, ha accettato. In particolare la signora Merkel ha detto io rispetto l'indipendenza della Banca Centrale. questo perché c'era una specie di do-des, finanze pubbliche rigorose e politica monetaria che fa tutto il necessario per evitare la speculazione. Questo è stato fondamentale per la stabilità del sistema. L'Italia quando si rifletta sul successore di Draghi deve essere preoccupato? Io penso che i capi di Stato che sceglieranno il successore di Draghi comunque non vogliono una persona in quel posto che sia una persona che crei problemi, che crea divisione, di un leader, di una persona che conosca i mercati finanziari, conosca i rapporti con la politica. Credo che l'esempio di questi anni dimostra che ci vuole qualcuno che risolve problemi, non che li crei. Un'altra cosa che chi segue i mercati osserva in questo periodo è che negli Stati Uniti, nel mio paese, c'è un attacco all'indipendenza della Federal Reserve. Abbiamo avuto svaliati attacchi espliciti, anche pesanti, dal Presidente Trump contro Jay Powell, il Presidente della Fed, criticandolo l'autunno scorso per aver aumentato i tassi interessi e cercando di, in qualche modo, intimidire il Presidente della Federal Reserve. Non è mai successo prima in America che un Presidente ha attaccato personalmente il capo della Fed. È un rischio per la finanza, per il sistema o è solo una cosa di costume di un Presidente particolare. Ma c'è una parte di costume, la cosa straordinaria è che il dollaro comunque ha resistito, vuol dire che la Fed ha comunque più reputazione forse di questi attacchi, però non lo sottostimerei perché ora per esempio la nomina di questo economista che Trump vuole mettere nel… Stephen Moore. Stephen Moore viene nominato ora e ricordiamoci che Jay Powell tra due anni e mezzo scade. dunque se Trump viene rinominato non si può escludere che Trump decida di nominare Stephen Moore a Presidente del… Ma per chi che ci segue in TV e non sa chi è Stephen Moore, è un commentatore, un opinionista di destra estrema che ha attaccato lui, Mr. Powell e la Fed e ha preso la parte su Fox News naturalmente come commentatore contro il Trump come il barboncino di Trump contro la Fed e questo potrebbe essere il prossimo Presidente del Fed se fosse nominato o confermato. Ecco questo credo che creerebbe un po' di problemi, naturalmente al Senato il Presidente ha bisogno per essere confermato di due terzi, cosa che oggi non avrebbe, dunque diciamo che è long shot, però insomma comunque è un fattore di preoccupazione anche perché oggettivamente la Fed si è comportata in modo oggettivamente equilibrato, appena ha visto un rallentamento economico, ha dato indicazioni di arrestare la fase di ripresa dei tassi di interesse, se non fossero stati aumentati i tassi di interesse c'era il rischio di una bolla finanziaria, ovviamente poi magari Trump se ne va ma la responsabilità sarebbe rimasta la Fed di aver alimentato questa bolla, dunque mi sembra comunque una politica equilibrata. A me sembra che abbiamo una situazione particolare transatlantico, quasi un specchio di corso al bottom, nel senso che la BCE annuncia nel forward guidance che i tassi rimarranno piatti fino a fine del 2019, la Federal Reserve segue annunciando che i tassi di interesse rimarranno piatti fino alla fine del 2019. Il rapporto fra dollaro e euro è complicato con tanti fattori, ma può essere che dipenda quale economia l'aerozona o l'America ralenta più velocemente per capire il differenziale? No, effettivamente fino a qualche mese fa la situazione era comoda perché l'America aumentava i tassi di interesse, la BCE era dietro e dunque il rapporto di cambio dell'euro non risaliva perché ricordiamoci che comunque l'area dell'euro è un'area in surplus commerciale e dunque tendenzialmente è una moneta che si apprezza. Evitare che si apprezzi troppo è fondamentale per non creare un problema alla crescita. Ora che la Fed ha indicato che i tassi comunque rimarranno stabili o forse potrebbero anche ridursi, per la BCE potrebbe essere un problema. I rapporti di cambio per ora sono abbastanza stabili, però in prospettiva c'è, ci può essere un rischio, dunque bisogna stare attenti a evitare un apprezzamento dell'euro troppo marcato che aggiungerebbe un impatto recessivo in una fase di rallentamento economico. Ultima domanda sulle banche centrali, ci sono alcuni in Italia che parlano apertamente dell'idea di mettere mani sull'oro, sui lingotti e le riserve della banca centrale. Una cosa senza precedenti è che potrebbe creare dei grossi squilibri nella finanza europea. Lei ritiene che sia un vero rischio o è solo retorica? No, a me i trattati sono chiari, tra l'altro l'oro della Banca d'Italia è una proprietà dello Stato italiano, dunque non è semplicemente gestito dalla banca centrale. Però come nel caso americano di attacchi alla Fed a me sembra che sia il modo per cercare di deviare l'attenzione da una situazione di difficoltà economica, credo che i nostri governanti sono molto bravi, quando l'economia va male trovano qualche altro argomento per poi scoprire che non si può fare e dopo due o tre giorni fanno retromarcia e dicono ma no va bene, non è un problema. Sono argomentazioni o tesi che non stanno in piedi. Quindi per lei la Banca d'Italia rimane indipendente e non c'è una minaccia alla sua indipendenza d'Italia. No, non c'è una minaccia, naturalmente le nomine dei membri del direttore della Banca d'Italia sono nomine nelle quali il governo ha un diritto di opinione, nel caso il governatore addirittura ha l'iniziativa, dunque è importante nominare persone che siano indipendenti in quel ruolo e che facciano interesse dell'Italia nel suo insieme e non di questo governo e di quell'altro, dunque che guardino al medio periodo. Un piccolo salto nel passato perché ho sempre voluto chiederla, quando tanti anni fa, 2015, stavo intervistando Silvio Berlusconi per la biografia che ho scritto, lui ha parlato molto contro di lei dicendo veni smaghi, mi ha ricattato, volevo fare governatore della Banca d'Italia, io ho detto di no. Come si risponde a queste accuse di Berlusconi che ormai sono perché? No, francamente che un membro del comitato esecutivo della BCE Ricatti, il Presidente del Consiglio Italiano è poco credibile, è chiaro che lui ha avuto durante l'estate del 2011 un periodo molto complicato, la maggioranza di governo si stava sfaldando, c'era un problema di attacco contro l'Italia, nessuno comprava più titoli di Stato, c'era una pressione perché lui lasciasse, in parallelo a questo c'era una questione della nomina del Presidente della BCE, ma il Presidente della BCE era già stato nominato, i francesi volevano un posto nel comitato esecutivo della BCE, la cosa che io ho detto è che io sono indipendente, diceva io non farò tutto il mandato, ma me ne vado quando voglio io e nessuno può dirmi quando lascerò e questo lo sapeva benissimo sia Sarkozy, a cui la questione andava benissimo, sia Berlusconi, lui continuava a insistere su questa problematica, alla fine io decisi di, diedi le mie dimissioni il giorno dopo che Berlusconi diede le sue, questo per ricordare che l'indipendenza della BCE è fondamentale. Oggi lei fa Presidente della Societe Generale che sarà, non so se è il primo o il secondo banca in Francia, seconda, con dei total assets di 800 miliardi? Il doppio. 1600 miliardi di euro? Sì, 1400 miliardi. 1400 miliardi, quindi 1400, 1,4 trilioni. Molto grande, quanti filiali, quanti dipendenti? Abbiamo 140 miliardi dipendenti in tutto il mondo. E i filiali in Francia? I filiali, questo è il numero, le stiamo chiudendo tra l'altro, ma insomma tantissime. Tutte le banche in Europa devono ridurre il numero dei filiali? Sì, perché nessuno va più in banca. Perché la gente usa il telefono o il computer? Sì, questo è la, sì. E questo vuol dire in tutta l'Europa tanti esuberi nel futuro, immagino. Beh, insomma bisogna adattare il sistema bancario della tecnologia e dunque trasformare anche le persone, ci sono nuove conoscenze, di persone che interagiscono in modo diverso col cliente, che usano la tecnologia. Dunque sicuramente è un settore dove anche in Italia, in Germania poi non è il solo paese. Ma lei a Parigi con la Société Générale, come un italiano, c'è qualche osservazione che può fare qualcosa dell'economia italiana, dell'Italia che lei ha visto meglio essendo a Parigi, presiedendo l'istituto francese, qualcosa che è rilevante che può aiutarci a capire meglio come un italiano, come lei vede l'Italia dall'esterno? La Francia ha dei problemi economici, ha un debito più basso, ma ha una crescita che non è all'altezza per esempio della Germania, ha una produttività più lenta e alla fine ha capito con l'elezione di Macron che l'unica soluzione sono le riforme, fare quello che hanno fatto gli altri paesi, cosa che è complicata politicamente, però dopo 20 anni di stagnazione, di liberamenti di crescita, il rapporto dell'Ocse riceveva addirittura negativa in termini di reddito pro capite rispetto a 20 anni fa. Se ci fa il confronto con altri paesi vediamo che noi siamo indietro e la tendenza italiana è dare la colpa all'euro, questo in Francia per esempio non succede, non si dà la colpa a qualche di un altro, si dice abbiamo un problema, dobbiamo cambiare, non è facile. Ecco, questo spirito riformatore in Italia manca e si tende molto a dare la colpa a qualche di un altro, all'Europa, alle banche, alla Banca Centrale Europea, alla Commissione Europea, all'Ocse, tutti quelli che fanno dei suggerimenti vengono considerati come dei gufi, si diceva un tempo e ora come, non so qual è l'altro animale che viene usato oggi, però non c'è abbastanza consapevolezza che il nostro destino è nelle nostre mani, un po' come diceva Ciampi, sta in noi cambiare questo paese. Questo richiede grosse difficoltà, da un punto di vista politico, di leadership e anche di sacrifici, soprattutto tra generazioni, noi stiamo creando una generazione di giovani poveri che scappano dal paese, tra l'altro spesso dicono scappano perché negli altri paesi hanno più diritti, ma non è vero, scappano spesso per fare dei lavori molto più precari di quelli che avrebbero in Italia, ma magari sono lavori che sono remunerati meglio. Dunque questo è un problema italiano, un problema che dobbiamo risolvere noi italiani attraverso una classe politica che ha il coraggio di fare delle riforme per far crescere il paese, di scommettere sul paese, cosa non facile, però gli altri lo stanno facendo, l'hanno fatto, il Portogallo per esempio, per citare un paese, l'Irlanda che ha avuto una crisi molto più grossa della nostra, ha avuto la Troica, ebbene sta uscendo, cosa c'è l'Italia in meno del Portogallo e dell'Espaio? Ma è possibile che negli altri governi, pure Portogallo o Iolanda, là dove ci sono state le riforme strutturali importanti per l'economia, a cominciare da Thatcher, poi Schröder e poi Portogallo o Iolanda e altri, c'era forse un governo disposto a anche rischiare l'impopolarità politica per un po', perché le riforme tendono a portare risultati erratici, qualcuno soffre per qualche anno, qualcuno beneficia e poi l'economia si ristruttura nel tempo, gli italiani non hanno la pazienza questo? O i politici italiani non hanno il coraggio? No, ma io penso che sia una combinazione dei due, io non penso che gli italiani siano migliori dei loro politici o peggiori dei loro politici, alla fine esprimono dei politici che gli danno il contentino, si è votato in queste ultime elezioni per prepensionamenti, quota 100, le cittadinanza e questo lo stiamo ottenendo e stiamo vedendo che non funziona, alla fine sono gli italiani che hanno dato… Cioè un popolo come lo specchio, un governo come lo specchio del popolo? Insomma, alla fine sì, se i cittadini italiani non capiscano che non è attraverso queste funzioni di breve periodo, non si cambia il paese, soprattutto non si cambia il destino dei giovani, fin quando non si capisce questo non ci sarà una classe politica che potrà interpretare quella volontà di riforma per riportare il paese a essere un protagonista di crescita, di sviluppo, di integrazione europea, è chiaro che un paese grosso come l'Italia, paralizzato, crea un problema anche per l'Europa, dunque tutta l'Europa aspetta che l'Italia si rafforzi e sia un vero protagonista di crescita, ma non si può esprimere una leadership forte se gli italiani poi questa leadership non la vogliono, vogliono una leadership che gli dia qualche contentino di breve termine. Lorenzo Benismaghi, grazie per il suo tempo. Grazie.